Lui Gelia, Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Biancara, una delle parti attive di questo presepe qua a Bianchi. Sì, il nostro sacerdote ha fatto l'invito alle varie associazioni tra cui le nostre noi abbiamo accettato. È stata un'esperienza straordinaria perché abbiamo avuto la possibilità di lavorare in modo tutto gratuito. C'è stato uno sforzo cittadino notevole dove tutti hanno preso gusto perché qua non c'è una sola lira data da nessuno e quindi è un'esperienza povera così come è il significato del Natale. Per noi è stato meraviglioso. Grazie a tutti.